Poi le mani, sì? Hai rete? Ready! Vai! Brava invece Machelli! Brava! No, no. Perché fai il cambio? Perché se no dentro... Vuoi fare un cambio allora? No, non è obbligatorio il cambio. Però sarebbe meglio. Però se lo fai, non fai l'emergenza dopo. No, no, no. Uno, cinque, sei, nove! Bravo! Non porreistico! Riguai tipo di preoccupazione, che scuriamo ora. No per un'altra, tu in questo caso, non per trucarelo. Tieni, trattato da capparezza.